Gentili telespettatori, buona giornata. Di Battista ha un sogno, I have a dream, ha un sogno, che questo sogno si scontra con la realtà. Lui partecipa all'evento streaming, cioè in internet, sulla commemorazione dopo cinque anni dalla morte del fondatore del Movimento, in un momento di crisi profonda per il Movimento stesso. Lui, vicino al figlio di Casaleggio, a Davide, dice, la coerenza ti rende solo, ma io ho un sogno. Dice, Gianroberto è una fantastica prigione, le sue battaglie ti portavano sempre davanti a un bivio. La convenienza o quello che ha fatto lui? La coerenza. Io mi sono trovato centinaia di volte di fronte a questo bivio. Credo di aver scelto la coerenza, ma questo non ti fa sentire più apprezzato, ti fa sentire spesso solo. Credo che anche lui si sia sentito solo. Di Battista, allora in streaming, ricorda Gianroberto Casaleggio, all'evento digitale Sam05. Appuntamento dopo cinque anni dalla morte del fondatore del Movimento 5 Stelle. Mentre Giuseppe Conte parla ai deputati e indica la strada per radicarsi e aprirsi, unire onestà e competenza, darsi una struttura, insomma, mentre l'ex premier tratteggia il nuovo Movimento, Davide Casaleggio, in nome del padre Gianroberto, che oggi ricorda boccia la scelta di una nuova forma di partito. Quindi uno scontro tra Casaleggio e Conte, ma il nuovo movimento di Conte sarebbe intenzionato a scaricare Rosso e il suo proprietario. Infatti il Movimento 5 Stelle sta abbandonando questa piattaforma, con l'accusa ai vertici 5 Stelle di volerla smantellare per poi abbandonare le idee fondanti come il divieto del terzo mandato. Ma c'è un fatto. Anche se Conte è per cancellare il vincolo del secondo mandato, Grillo ha detto chiaramente che quello è un pilastro che non si tocca. Quindi su questo non credo che Conte possa fare un dietrofronte se non è d'accordo dette Grillo. E così su questo tema di Battista dice ho un sogno, lui che se n'è andato dal movimento senza sbattere la porta. Dice mi sono fatto da parte, le idee contano più della possibilità di fare carriera politica. Dice la logica del pensiero di Gianroberto nasce sulla rottura della intermediazione che ha insito l'esercizio di un potere. Io sogno un paese che abbia per tutti l'impossibilità di fare più di due mandati, fidatevi di me, dice. Quindi lui vorrebbe mettere una legge, vorrebbe fare una legge dove il vincolo del secondo mandato viene steso per legge al Parlamento e al Senato. Nessuna persona può fare più di due mandati in politica. E aggiunge fidatevi di me, ci sono stato nel palazzo, se stai troppo tempo lì, dentro, poi inizi a pensare che la carriera politica sia più importante della possibilità di servire i cittadini che ti hanno permesso di star lì dentro. È umano, se inizi a pensare che il tuo posto di lavoro sia quello, pur di salvaguardarlo farai di tutto, anche scendere a compromessi con la tua coscienza. L'idea deve essere sempre quella di perseguire nella costruzione della democrazia diretta. Dobbiamo imparare dagli errori commessi anche per inesperienza, ma dobbiamo continuare. La famosa democrazia diretta dei Movimento 5 Stelle non è mai esistito. Un partito quasi militare, dove comanda Grillo, comandava Di Maio e volevano, come accusavano molti politici 5 Stelle, volevano dei parlamentari come delle marionette che schiacciavano sì o no secondo gli ordini del partito, alla faccia della democrazia diretta. Poi quando hanno scoperto che la piattaforma poteva ostacolare il loro lavoro, poteva indurli magari a far cadere il governo e a perdere il lavoro, come dice Di Battista, i 5 Stelle hanno voluto immaginare che quello fosse il loro lavoro per sempre, quei 13.000 euro al mese netti per non fare assolutamente nulla, come tutti i politici, è diventata la priorità assoluta su tutte le priorità assolute. Sì, ha ragione Di Battista sotto questo aspetto, che quando entri lì e capisci che quello potrebbe essere il tuo lavoro per tutta la vita, tanti soldi per non fare quasi nulla durante un mese, ovviamente scendono a compromessi, fanno di tutto per non perdere questo lavoro. Però c'è una contropartita. Se voi estendete il vincolo del secondo mandato a tutto il Parlamento, voi potete star sicuri che i governi dureranno sempre cinque anni, sempre, perché i parlamentari non lo faranno mai cadere, perché cadere il governo vuol dire ridursi lo stipendio. Immaginatevi un governo che lo fanno cadere dopo un anno e l'altro dopo un anno e mezzo, questi parlamentari che hanno il vincolo del secondo mandato lavorerebbero due anni e mezzo a 13.000 euro al mese e poi sarebbero a casa. Quindi la cosa controproducente che non ha capito Di Battista e Grillo è che se tu metti questi vincoli la gente poi non fa cadere il governo per nessun motivo, per nessun motivo, perché non vogliono perdere il lavoro. Quindi ha l'effetto assolutamente contrario a quello che dice Di Battista. Di Battista dice se mettiamo il vincolo del secondo mandato la gente lavora per la coscienza e non per lo stipendio. No, lavorerebbe ancora di più assiduamente per non mollare la poltrona come è successo con i grillini in questa legislatura. Molti sono alla fine del secondo mandato e per questo non hanno fatto cadere questo governo che continua a stare in piedi proprio per il vincolo dello stipendio altro che del secondo mandato. Quindi, caro Di Battista, il tuo dire estendiamo il secondo mandato a tutta la politica è controproducente perché poi sarebbero super attaccati alle poltrone e i governi durerebbero sempre cinque anni. Ecco, intanto, poi per avere ogni due legislature degli inesperti, no? Immaginatevi un Parlamento che si riempie all'improvviso di gente che non sa neanche da che parte sta girata, no? Cancellate tutti, non so, Salvini, Meloni, Zingaretti, tutti e da domani con le elezioni arrivano 600 persone senza né arte né parte, senza curriculum, senza esperienza, dei politici per caso. Immaginatevi la politica guidata da persone prese così a caso nella strada, magari con dei like su Facebook. Andremmo di male oggi in peggio, di male assolutamente in peggio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra 20 minuti per un altro video. Siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete, mentre ci sono poi anche gli abbonamenti al canale. L'abbonamento da 1 euro e da 2,99 euro per vedere i video ore prima che vengano pubblicati e l'altro oltre ai video ore prima anche dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata.